Per confermare il buon inizio di novembre dopo il derby di Coppa ha vinto, il termo di Federico Guidi è chiamato all'ennesimo scontro diretto in campionato. Al Bonolis si presenta la Fermana, che nelle ultime 5 giornate ha trovato la sconfitta solo con il Pescara, ma che ha appena un successo all'attivo nelle ultime 13 trasferte. L'ombra degli infortuni segue ancora il diavolo, cosetta a fare a meno anche del portiere Tozzo, influenzato, al suo posto il 2002 Agostino. Solito 4-3-3 per Guidi, con Mungo e Arrigoni a centrocampo, Cebuà nonostante i dubbi delle ultime ore. Il diavolo sa di dover sfruttare la minima occasione e così accade. Al quarto minuto, lavoro di Bernardotto a favorire sull'outmancino a Ziosmanovic, palla per Federico Viero, che in area addomestica si accentra e manda sul palo opposto l'1-0. Per il numero 8, secondo centro stagionale dopo quello con la Pistoliese. Anche in quel caso la marcatura arrivò quasi subito e alla fine il Teramo si aggiudicò la contesa. La Fermana è poco lucida, Rodio e Marchi alzano la mira in due circostanze. E il Teramo ha anche la chance del raddoppio. Bernardotto, innescato da Arrigoni, fa sportellate con un difensore, vince il duello, si invola, ma davanti a Ginestra li consegna, di fatto, il pallone del 2-0 col mancino. Canarini sempre vivi e al 36esimo, Mordini risolve un batti e ribatti in area. Innesca al centro Frediani, ma l'attaccante, grazie al diavolo, mandando alto. Finale di tempo che non ammette cali di concentrazione. Prima Mordini cerca il pari con un diagonale debole e senza precisione. Poi Capitano Arrigoni, dall'altra parte, cerca di sorprendere Ginestra direttamente da punizione, da posizione molto defilata, ma l'ex numero 1 del notaresco si salva. Nella ripresa, il neo entrato Ondreczka impiega pochi secondi per far paura alla difesa giallo-blu. Scappa sull'altro mancino e pesca malotti in area. Il numero 7 cerca il primo palo, trovando l'esterno della rete. Reagisce la squadra di Riolfi. Azione insistita sulla sinistra. Cross per Mordini. Testa a cercare il 7, ma a trovare solo l'illusione della rete. Scampato il pericolo, il Teramo abbassa nuovamente la testa e raddoppia. E il 53esimo, Bernardotto avvia la sua solita giocata offensiva, fatta di cattiveria agonistica. Cerca un appoggio dalle parti dell'area e lo trova in Mungo, che riceve, controlla e scarica all'incrocio il suo primo centro stagionale. Apprezzabile l'esecuzione del centrocampista, che conferma la sua importanza nell'undici bianco-rosso e corona una prestazione sempre più in crescendo. Non è ancora finita e per evitare brutte sorprese, la squadra di casa triplica le marcature. Minuto 56, Arrigoni sventaglia dalla propria tre quarti, sembra un pallone ormai perso, ma rosso scatta sul filo del fuorigioco e si ritrova completamente solo davanti a Ginestra, scegliendo il tocco sotto per chiudere la pratica e far esplodere il Bonolis. Anche per il prodotto del Vivaio del Torino è il primo sigillo in questa Serie C, e per la prima volta in stagione il diavolo segna tre volte in meno di 90 minuti. Sulle ali dell'entusiasmo si sfiora la goleata, con Bernardotto che due minuti dopo sfugge la linea del fuorigioco difensiva e manda appena lato in diagonale. Mai abbassare la guardia e quando ciò accade ci pensa il giovane portiere Agostino a salvare i bianco-rossi, come quando dice di no all'incornata ravvicinata di Graziano, allo scoccare dell'ora di gioco, poi Blondette scarica fuori da buona posizione. Miglior momento della fermana, passano altri cinque minuti, il direttore di gara punisce, tra mille proteste, un intervento in area del neo entrato Lombardo su Panetteri, concedendo il penalty. Dagli 11 metri va Marchi, Agostino intuisce ma non evita il gol che riapre i giochi e ridà speranza ai marchigiani. I canarini non cadono dal 16 ottobre e ci provano con ancora più convinzione. Al 72esimo Mordini prende al limite e chiama alla presa a bassa Agostino. 120 secondi e Rodio, sempre da fuori, sbatte sull'estremo difensore di Ciannovenne. Rosso e Birligea tra il 77esimo e l'85esimo potrebbero mandare i titoli di coda, ma non riescono a superare Ginestra. Quando sembra finita, al 92esimo la fermana punge. Dopo un piazzato da centrocampo, palla in area proveniente dalla sinistra. Nepi approfitta della confusione in area e trafice l'incolpevole Agostino sul palo lontano. E il 3-2 che fa vivere il finale col fiato sospeso agli oltre mille presenti al Buonolis. Ma la 6 ospite non porta altri risvolti. Vince il Teramo, lo fa dopo oltre 15 anni contro la fermana. Lo fa anche in campionato, a distanza di quasi un mese e alla vigilia di quattro sfide delicatissime, con Pescara prima, Olbia, Carrarese e Pontedera poi, giocando tre volte su quattro in trasferta. Il diavolo toglie lo sguardo dalla situazione infortuni e si gode una serata da applausi, lasciando la zona rossa della classifica e ritrovando il feeling con il successo.